Salve onorevoli, siamo io qui su Gothic 2 nell'espansione La Notte del Corvo Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati che avevamo consegnato la lettera a Lord Hengen e Lord Hengen ci aveva detto che dovevamo andare al monastero per prendere l'occhio di Innos Ora, qual è il problema? Eram andati un attimo in città e ci avevano assegnato la missione Razzie dei Briganti che non so come facciamo, non so dove avevo preso l'anello che quindi avevamo smascherato che il trafficante era a Ferdinando, però non avevamo ancora trovato i banditi io li ho trovati, eccola, come li ho trovati? Semplice, sono andato nella fattoria di Enkil e ho girato, invece di girare a destra per il monastero ho girato direttamente a sinistra qual è il punto? Prima di tutto ho trovato due cercatori nel viaggio e mi ero messo un po' a andare in queste zone giusto per cacciare un po' e vedere cosa troviamo di particolare cosa ho trovato di particolare? Quei due banditi quei tre banditi quindi salviamo molto velocemente e vediamo di attirarne un po' dalla nostra parte dai abbiamo finito pure le frecce fantastico ma non c'è cacca, non mi scusi just leave me alone, you bum hey, you bum you haven't come about that sheep, have you? sheep? what sheep? there's a good lad and now beat it there's nothing here for you fine hey, I'm talking to you dimmi you're in for it now so much for you lowlife aia mi sai che ci siamo beccati giusto giusto il bandito più forte di tutti quindi dobbiamo vedere un attimo di strutturare la situazione nel metodo migliore possibile prima di tutto lui è un arco quindi dobbiamo impegnarci affinché lui comincia a tirarci le frecce rieccoci signore allora siamo alla taverna dell'arpia morta perché ho provato in tutti i modi a uccidere quei banditi non ci sono riuscito allora ho pensato anche di andare al faro dove stavano altri tre banditi che logicamente non riuscivo a colpire quindi è abbastanza inutile diciamo il concetto arpia il concetto di provare a sconfiggere dei banditi che siano in gruppo perlomeno il senso di rompico andalabro duro l'avano la mia morta per la famosa riunione non c'è nessuno è qui è qui per ora noi sappiamo scassinare quindi se funziona come in Gothic uno e ci spero fortemente vediamo se riusciamo a scassinare questa porta con questo versiere questa è la sua decisione ah, adesso, adesso qui bene dormiamo magari fino alla mezzanotte che cosa succede? bene gli incubi mi hanno impedito di potere ma gli dico veramente magnifico non mi dico che non lo sapevi non mi dico che non lo sapevi credo non ci sono ancora credo sono paranoico e sto fissando ah no si sono paranoico e sto fissando mi ha detto am I being paranoid or are you staring at my ring? I'm not quite sure what to make of that it's a bad business same all day all over again it's an aquamarine ever seen one before? ecco yes I have I couldn't get away with that now welcome to headquarters brother of the ring I'm not telling you anything what can I do for you? I couldn't get that I heard that the ring is going to meet in your tavern that's right they should be starting just about now I wonder what's taking them so long nothing amazes me anymore the meeting is today yes at least that's what I seem to recall I hope it won't get so late again and there's more and there's more believe me I'm no better off myself ecco perché era così fottutamente forte that was no big deal there's nothing you can do about it he really should have known better nothing amazes me anymore tell me if that isn't true that doesn't surprise me that doesn't surprise me that was no big deal that was no big deal is it really true? more people? we're all complete? 56 and we're talking to him I couldn't care less I've gone about it differently all right my young friend we have come together here to celebrate your admission to the ring of water the boys who are present here will keep an eye out for you from today on of course there are others who also belong to the ring of water so be careful whether you do us a service or mess things up we are going to learn about it here take the armor of our community wear it with pride but never in town or in other inhabited areas remember we must not be exposed nobody must therefore be told who the members of the ring of water are nobody talks about the ring of water that's our foremost rule stick to it any more questions? nothing amazing what about weapons then? the weapon of the ring is the quarterstaff but everyone uses whatever arms he is most comfortable with here's one of our staffs I never really figured out how to use it but maybe you can handle a thing what kind of help can I get from you? I can show you how to become more dexterous if you need help with wielding close combat weapons talk to Kord he is a master of the blade Gon will gladly show you the proper way to gut animals Martin can tell you a lot about the paladins Cavalorn will teach you sneaking around one handed combat and archery Orlan will always have a warm chamber and a bed waiting for you and for anything related to magic talk to Vatris I've got to go fine then don't let us keep you now go directly to Vatris and ask him to give you your first task brothers of the ring let us now return to our duties the bandit attacks are still going on we must see to it that this menace is stopped Adenos preserve the balance of this world ok, then we can really wait a lot of time Martin so you're the new fellow eh? welcome among us brother the ring go to Vatris ok ok mi fa piacere però io dovevo un attimo ehm vedo che vedo tanto last nobody will learn anything from me and that's the truth e anche più forte della nostra credo che l'equipaggio do you really believe that? do you really believe that? no I believe we're last ma... no 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 i couldn't get away with that e poi ehm al monastero si ci dobbiamo andare prima da larence e poi al monastero signori quindi ci vediamo da larence signori rieccoci sono qui alla capanna del vecchio coso perché mi ricordo come si chiama comunque è quello lì che ci serve per far salire hey forza in quanto credo che sia ora di fare... far salire un po' la forza insegnami a colpire più forte posto dieci dieci e non possiamo più farlo fine quindi ora abbiamo forza sessanta il punto di apprendimento 7 con forza sessanta se non sbaglio noi possiamo indossare forza richiesta settanta no niente assolutamente niente possiamo indossare però comunque altri due vivelli riuscivamo a indossare una spada quanto meno decenni hey you buddy what do you want these last few days I've been thinking about how we could make some quick money in this dump and I think I've stumbled across a possibility of making money fast a merchant from town would shell out a lot of dough for a certain thing who is the merchant you're talking about no can do pal I have to be really stupid to tell you my source are you trying to pull a fast one on me either you make the deal with me or not at all capisce capisce madame di cosa si tratta what's this about the merchant claims that he could market shadow beast horns very profitably someone would have to go to the woods and harvest those beasts and that's where you come in hmm perchè mi stai dicendo tutto questo why are you telling me this I can't do it myself I need to stay here and watch those stupid sheep you mean the farmers that's what I'm saying quanto si guadagna how much is to be gained there a bunch of money I tell you there will be enough for the two of us sounds good I'll let you know when I manage to get some horns how do you gut a shadow beast you don't know that? oh man I'd have expected more of you insegnami teach me listen up then you doing that shadow beast and then you hold his horn with your right hand as tight as you can then you stick your knife in its forehead and cut a furrow in the flesh around the horn then you use your knife to pry the horn from the skull and you put it in your pocket well and then you bring it to me that shouldn't be too hard for you to do ok come vedete avere sempre dei punti diciamo così diciamo dei punti d'apprendimento messi da parte quindi andiamo orizzare bene il salto abbiamo altri quattro quindi volendo potremmo anche imparare un'altra di queste abilità minori ma detto ciò signori ci vediamo direttamente da lì signori siamo qui esattamente dove vicino ai campi di Omar perchè stavo passando per andare dall'altra parte in quanto voleva parlare col boscaiolo che di solito si trova là ma invece del boscaiolo ho trovato loro non so cosa vogliono e non so cosa facciano nel dragitto comunque ha ammazzato tre cercatori si trovano proprio ai bordi delle strade a rompere le palle ma l'acca caro è il minatore se qui comunque danno molta vita e danno 15 punti di vita ma l'acca cosa stai facendo qui cosa stai facendo qui cosa stai facendo qui i fled here from bengar's farm i didn't want to be butchered by all those creatures coming out of the pass you can't imagine what sort of things came out of the pass the last few days i can what's it like here here i only have to put up with the bandits it's the lesser evil hey here's the food you wanted fantastic and now teach me how to hunt what do you want to learn rimuovi la mandibola rimuovi il cuore perchè ma vabbè fine un attimo salva in quattro sei quattro e peccato che non ci serve ora preferisco quei quattro punti tenerli in caso ci dice che dobbiamo sbloccare un'abilità particolare unica ecco un altro cercatore che due coglioni quello che porco giuda è sono inseguito da un fottutissimo veloci raptor mi scusi da due addirittura voilà brutte bestie in ogni caso la fauna sta cambiando ricarichiamo da qui signori e spero questa volta effettivamente che ci vediamo da lì si spera signori eccoci qui finalmente dopo un bel po' di tagli alle porte della fattoria di Onar ora vediamo di andare a parlare con gli ultimi rimasti cioè no con lì solo con lì dobbiamo parlare sì e vediamo se andiamo se riusciamo a where have you been? I was in the valley of mines there are dragons there they gave the paladins a pretty hard time ecco so? then there really is something to the stories Lee will be interested I never knew that have you got something for me to do? have you seen those black hooded guys creeping by here? those people give me the willies I'll tell you when I was at sea I saw some pretty curious things but those fellows really scared me they went in the direction of the bandit camp in the mountains at the southern end of the valley maybe you should go there and check on those guys and go away with them nothing amazza me anymore ok nothing amazza me anymore quindi la paura di Torloff per l'uomo nero deve esserci alcuni di quei tizi incappucciati al campo dei briganti nelle montagne a sud della valle la cosa non va giù a Torloff devo risolvere il problema chiedo che la maggior parte ne ho già ammazzati dobbiamo ammazzare solo quello lì che stava a lato ma per il resto tutto è fatto quindi signor Lee ha liberato Gorn 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 ehhh ehhh vengo dalla valle delle miniere per l'uomo nero il castello è stato attaccato da due ragni lo è vero ma è vero Lair ha detto che rumori di ragni si stavano circolando in mania per l'uomo nero non lo credo ma ne ci credo e tuoi non ci credo ma ci sono stati loro stati Buono, magari Lord Hagen dovrà pensare di nuovo sull'offer, e se non dovrò trovare un altro modo da uscire. I've come from the Valley of Mars. Do you have better armor for me? I sure do. Give me the heavy armor. You know how it works, first the gold. Give me the heavy armor. You know how. Don't you have anything else for me to do? You can't get enough, hmm. You're in plenty of trouble as it is. What else do you want then? Another assignment. I'm a mercenary, remember? All right, I've got something. It's just a thing for you. I have a debt to settle with the judge in town. I'd actually prefer to do it myself. But the paladins wouldn't let me within a stone's throw of his house. The thing has to be handled with a bit of consideration, so pay attention. You'll go to the judge and offer him your services. You'll try to win his trust and carry out some dirty work for him until you find something to incriminate him. The swine has done so many dirty jobs that it stinks to high heaven. Bring me something I can use to blacken his name with the militia, so that he spends the rest of his life molding in the slammer. But I don't want you to kill him. That would be too quick. I want him to suffer, understand? Do you think you can do that? No problem. How much? Your reward depends on what you bring me, so make an effort. So don't tell me that. Of course we got him in the end. Hey, you! He never would have thought of that himself. Everything all right with you? You saved my ass, man. I'll never forget that. What do you want to do now? I think I'll load up on Grub first. And then? Who knows? Maybe I'll go back to the mining colony. Someone should keep an eye on the orcs. Otherwise they'll all show up on the doorstep without warning. Nothing amazes me anymore. Fine. Intenso. Ora, quindi, vediamo... Ah, noi abbiamo, abbiamo trovato una valle delle miniere delle vecchie monete. E noi sappiamo che quel lottizio proprio di fronte a noi le compra. Vassili. Una vecchia moneta. I've got an old coin here. Hmm. Show me. Oh, yeah? That won't bring much on the open market. I'll pay your gold piece for it. Exactly as much as it used to be worth. Non basta. Che ne dici di due? Not quite enough. What about two? Nothing doing. I'm not a loony. Beat it. Una vecchia moneta. I've got an... You know what I'm prepared to pay for it, you dog. One. Ehm... No, allora credo che la terra. Nah. They don't have any value for you. Vabbè. I've got a... You know... Affare fatto. Good. But... If you have any more of those... You'll know where to find me. Ti interessano altre vecchie monete? Interested in some more old coins? Sure. You still have any? A few. Thanks. Here's your money. Bring me all you can find. I'm going to find the mine. Here... I've brought all the coins that we had, so... Now... The important point is... Ah, yes. Contro the... The... The capuciary... I tried to use the plate... But the weapon... It's too slow and they can attack us. So... I'd like to say, I'd like to stay... Let's say, even till the end of the game, with a weapon or a weapon or another. So, which weapon? What weapon? Only the... I've never done that. E ora gli diamo... Give me the hair. Very good armor. It's the same that I wear. Oh, I'm not touching that. What about the pallet? They've beat myself. I'm going better off myself. I hardly know what to believe in you. I'm not telling you anything new. Don't say you didn't know that. Oh! I'm going to sell. Nobody will sell. I'm going to 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 sell. All right. I'm going to sell. commentarvi che il tempo è tiranno e ci vediamo nel prossimo episodio